Una persona che si produce del cibo ha recuperato potere, ha recuperato autonomia, non è più tanto ricattabile. A me quando ci vanno le persone delle zucchine, mi fanno ridere, cosa vuol dire queste zucchine? Intanto se le compri fuori, stagione se è un matto, per tanti motivi, economici e salutistici. E poi sono disunziati per leggere, perché hanno studiato di tutto, veramente un studio bellissimo, ma poi è inapplicato, perché cosa leggo? La foce del fiumesino sono decenni che è fuori legge, non sono tre anni, ci sono decenni, 10, 20, 30, 40 anni che si sa che il fiumesino alla foce è completamente fuori del parambito. ...agli altri, cosa fa la pubblica amministrazione? Tutti noi dovremmo guardarsi prima in casa a quello che facciamo noi, nel nostro piccolo, perché anche quello che diceva il dottor Borognini, dobbiamo chiedere anche a noi, agli organi di controllo, agli enti delegati, di fare in più, di stimolarli, però dobbiamo farlo anche noi. Nello Stato italiano non ci sono norme, non ci sono regolamenti, ne abbiamo fin troppi, ne abbiamo fin troppi tanto da essere troppo complicati nell'applicarli. ...manca, permettetemi di dire, una cultura di condivisione e una cultura di integrazione, che è fondamentale. ...è bisogno da pagare, però si pone una grande razione di fondo a questo punto, no? Cioè la cultura di fondo è che non conviene risparmiare l'uso dell'acqua, perché se l'acqua costa 100, se tutti consumiamo di meno l'acqua costa di più, perché comunque, dopo di che chi consuma di meno paga un po' meno. Non è logico, non è logico. Eh, come non è logico. Ma appunto cerchiamo anche proprio di parlare con le persone che oggi incontriamo, che molti ci prendono un po' per passi, perché fare adesso la camminata dalla Sorgente alla Poggi con questo caldo, ci dicono dove siamo andate, soprattutto ieri, proprio vicino a Damo Sorgente, un continuo, ci hanno detto ma chi lo paga per fare già questa cosa? Io lo dice uno che ha fatto il Sindaco, per cui so come funziona, quando bisogna far fare il giro delle chiese alle persone, a me non compete. Perché la prevenzione è molto più importante che la punizione successiva, che la parte repressiva, perché la prevenzione è molto importante, c'è anche l'informazione, a volte la gente lo fa per ignoranza, magari uno fa, perché magari l'abitudine era quella, a volte sono cose piccole, che però ci hanno peso se lo fa, se lo fa in Italia. Non manca l'acqua, non manca. No, aspetta, ma purtroppo non abbiamo neanche rischi a che manchi. Il problema è un problema di costi, perché dopo il tipo di idrico potabile c'è il tipo agricolo. Questo problema non si risolve, perché noi lo sappiamo, tra 40 anni l'acqua non basterà. ci sono due cose da fare, una è circuitare in maniera diversa tutte queste terre che prendono l'acqua da 150 diverse sorgenti, l'altra cosa da fare che abbiamo proposto, che è nel nuovo piano regionale delle acque, è fare una diga sul sentino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Allora, noi invece ridiscendiamo dalla sorgente. Con carma? Con carma? Con carma! Con carma. Per purificare il karma del fiume. Ok. portando l'acqua della sorgente che si dice che sia un'acqua pura donata dagli dei a purificare quello che l'uomo ha distrutto donato dagli dei. Era un paesaggio senza confini, una vallata con al centro un grande dorso di collina sulla quale poggiava un tempio. La terra e il cielo erano limpidi e bianchi allo stesso modo. Sembrava di stare dentro una nuvola. Arrivavano pellegrini di continuo, impilandosi nella fila che si snodava fino ad entrare nel tempio. Avevano fermi irregolari e mutavano continuamente. Scompariva un braccio o una gamba. Poco dopo ricompariva la testa, come fossero fiammelle, stersi come ghiaccio e fluidi come aria. Per comunicare arrestavano il loro mutare e vibrando con tutto il corpo emettevano oscillazioni sottilissime. Ogni suono era spesso solitario e si propagava uniformemente come increspatura, attraversando e arrivando a tutti i presenti. Tutti, nello stesso modo, visti da lontano, creavano un ritmo sinuoso e ammaliante per occhi e orecchie. Era curioso sentire cosa le avesse spinti lì. Era questo che si raccontavano. Era un ritmo sinuoso. Era un ritmo sinuoso. Poi stai Al centro del tempio che sembrava l'unica certezza di quella valle sedeva a gambe incrociate una donna che così posta era alta quanto i suoi ospiti Lei non variava forma, bordi ben definiti, quasi scolpiti ma dall'ombelico nasceva una spirale di tutti i colori che cresceva per tutto il corpo I soggetti entravano uno alla volta nel piccolo tempio, poi si arrestavano rimanevano immobili per qualche tempo e poi si gettavano sulla dea, dissolvendosi in lei Come avanti a chi sa tradurre l'italiano all'antino tra gli tempi? Ma io non sape mai cosa si è scritto Alle prime curve del sentiero il contadino incredulo ci chiede quale moneta ci paghi Proprio lui non crede più alla passione Proprio lui che ogni giorno deve andare a riprendersi vacche e vitelli da in mezzo al bosco Proprio lui che ogni sera dorme a tratti per ogni ululato che dal monte arriva alla casa Pensavo davvero di trovarti già qui Tutto e per intero Ma evidentemente mi sto sbagliando Se va? Veniamo? Come? Fai i prelieri Se l'hai te le prometti E' un po' Questo? Eccolo, eccolo Non è un gambaretto Sì, sì, ma no È un gambaretto quello? No, no, non è un gambaretto Questo è il bozzolo che si fanno Impastando i sassi con la loro saliva In fondo ci mette il tappo Sa stupelli E io gli ce l'ho qui Sì, quelli sì Quelli Tre gambretti grossi proprio Ah, proprio grosso Ok, perfetto Ok, perfetto Perfetto Facciamo il torriamo Va bene Va bene Ok Ciao La strada c'è È un那個 Un bancherozzo E questo? E questo? E questo? E questo? È un bancherozzo E questo? E questo? Cosa ci schiamo qua? Tre? Giusto? Tre. E poi duecento cosa? Tre, duecento. Questa rossa che è l'Atenia. C'è anche un pelo tuo Emanuele, lo facciamo analizzare. La parola sanguisia. Un po' Sergio, un po' Nettino, un po' strunza. Carlo, siamo qui perché avevamo fatto dei prelieni e adesso stiamo a fare dei simboli. Caprescia. Ha detto dai, un po' c'è ancora da fare. Immagini di repettorio. Però io sono anche gestore di esperienzesino. E di solito io su esperienzesino posso postare. Invece ecco, non mi ha fatto impostare. Appunti di viaggio. Mercoledì 22 luglio 2015. Il risveglio ci riserva una bella sorpresa. Sul terreno qualcuno, con sassi e legna, ha riprodotto un simbolo legato a Cupri. Ciò diventa propiziatorio per il rito della presa dell'acqua. Io e Carlo cominciamo a disegnare i simboli piceni lungo il percorso, appositamente per segnare il nostro passaggio. Lungo la strada facciamo l'incontro di Mario Amore e Buonapasta, contadino del posto, che ci racconta le sue vicissitudini relative ai ritrovamenti archeologici sui campi di proprietà. Siamo ospitati per cena dal Mercato Nuovo, spazio privato lasciato quasi in abbandono e rivitalizzato da ragazze del luogo tramite l'allestimento di mostre e esposizioni Mercato Rionale a chilometri zero. Per la notte il Comune ci mette a disposizione l'Oratorio della Caritas. Roboanti fra suoni riecheggiano nel buio dei corridoi. ... ... ... ... ... E le frequenze sono enormi che sono demoniache. Si nuota, si nuota, si nuota. Erosione, il filtro strato. Erosione. Inizio, vedo. La sensibilità a rispondere è sufficiente o inizio? Un po' insufficiente, la strada è molto più alta, l'unico punto accessibile era qui che è una proprietà privata. Comunque quanta vita c'è? Impressionante. Che queste ne prendi due o tre, ma dopo basta, se sono uguali. Nel suo periodo anche c'è i Senoni? Sì, però io dico qui... Qui sono arrivati addirittura dalle parti di Ascoli? No, io dicevo qui Materica. Abbracciatevi. Drogati, ecco perché camminate voi, guardali. Una pressione bassa. Bella colpa. Era un evento che non a tutti era concesso. Combinazione di grandi meccanismi e propri sacrifici. Molti di loro lo progettavano da più di una vita. Essere lì significava iniziare un nuovo ritorno in altre forme. Conquistare una grande verità. Non c'erano né sole né luna. Era difficile definire quanto tempo fosse passato quando l'ultimo pellegrino entrò nel tempio. Scomparso anche lui, la donna si alzò in piedi e rimase ferma ad ascoltare finalmente il silenzio che arricchiva quella realtà. La spirale iniziò a prendere velocità, ruotando, sempre più in fretta. I colori si mescolavano e dal suo imbellico sorse una flebile luce che lentamente cresceva. La dea aprì le braccia. La spirale ruppe i confini del corpo. La donna divenne luce bianca inondando ogni cosa. Losессi sugi. Viene da inestalare il colore luce. La cura divenne luce. Segue. Molto. La cura divenne. La cura divenne. non c'è praticamente niente basta puoi tappare poi limitiamo la scoccia e così come l'acqua va incascata cadono anche le cose destino d'acqua e di persone fluire, congiungersi, irrompere, disperdersi subire le stagioni o le scelte di altri seccarsi o portare vita magari a volte basta solo aspettare lasciare le cose passare ma questo non è il modo per andare avanti oltre le cose che passano lo ha preso dai vecchi fermi sulla porta di casa con ancora il tempo di fermarti a parlare sembra che dicano solo di ieri ma sanno riportarti alla sorgente che si è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che silenzio mistico. Che cosa significa? Sarebbe cupri, la dea cupra che vuol di bellezza. Grazie a tutti. 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 Quanti siamo? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Otto. Corpo di corpi. I pellegrini. I pellegrini erano tutti la stessa forma. Uniti da infiniti legami minuscoli. Fluido che permetteva comunicazione istantanea di idee e sensazioni. sincronizzavano tutti con scintille, diffondendosi da parte a parte dello stesso corpo. Non avevano occhi, ma potevano vedere immagini del loro nuovo mondo. Iacca. Sette... Sette settantatré. Quantescene. Pruega... Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Sabato Grazie a tutti 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 25.7 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti